Un innovativo protocollo di collaborazione tra Camera di Commercio e Prefettura di Pordenone per velocizzare gli ingressi di mano d'opera straniera specializzata e rispondere alle esigenze occupazionali del territorio. Grazie alla collaborazione tra istituzioni, la locale Camera di Commercio tramite l'azienda Speciale Concentro fornirà supporto allo sportello unico per l'immigrazione mettendo a disposizione proprio personale per l'espletamento delle pratiche di ingresso per lavoro circa un migliaio in friule occidentale nel 2023. Consente allo sportello unico per l'immigrazione di dare una risposta immediata alle categorie economiche in settori strategici per l'economia della provincia e di tutto il territorio. Per quanto riguarda i decreti flussi, le conversioni da lavoro interinale e subordinato siamo intorno alle mille istanze. Sono istanze che hanno bisogno di essere lavorate per dare una risposta alle categorie economiche una risposta immediata che non può essere procrastinata. L'accordo ha durato quattro mesi rinnovabili per due persone a partire da luglio. È uno degli esempi virtuosi di questo territorio dove il principio della sussidiarietà diventa concreto. In questo caso serve a rispondere da un lato all'esigenza delle aziende, dall'altra agevola anche questi lavoratori, giudichiamo questi nuovi italiani che vengono qui per prestare la loro opera nelle nostre aziende e questo dimostra anche un livello di civiltà importante e dimostra come questa città sia una città accogliente.